Buongiorno a tutti, a me il compito di accompagnarvi nella caratterizzazione di queste molecole che sembrerebbero avere tante cose in comune, ma che vedremo hanno caratteristiche di similitudine ma non di eguaglianza. Innanzitutto, che cos'è un farmaco biologico o biotecnologico? Perché in molti casi viene definito farmaco biotecnologico, è un medicinale che è stato ottenuto all'interno di una cellula eucariotica, una cellula di mammifero più delle volte, con un processo di sintesi particolare e una sintesi che non è uguale a quella con cui sono state ottenute le molecole chimiche tipo l'aspirina ma si tratta in questo caso di molecole di origine proteica o glicoproteica uguali a quelle che vengono prodotte nell'organismo umano. Per esempio, una di queste molecole è l'insulina, che è utilizzata appunto per la terapia del diabete, oppure la somatotopina, che è l'ormone GH, o ancora l'eritropioitina. I farmaci biologici poi oggi hanno una utilità nelle malattie infiammatorie e anche nel trattamento di alcune forme tumorali. In questa diapositiva vi mostro quant'è la differenza tra i vari farmaci biologici e l'aspirina. Si tratta di molecole di grandi dimensioni rispetto all'aspirina e queste molecole si differenziano tra loro. Per esempio, l'insulina è una molecola relativamente piccola rispetto agli altri farmaci biotecnologici, l'eritropioitina è ancora più grande, ma gli anticorpi monoclonali, che sono soprattutto utilizzati nelle malattie infiammatorie, sono ben 30 volte più grandi dell'insulina. Ciò vuol dire che per la sintesi di queste grosse macromolecole è necessario che siano garantiti alcuni processi. e qua andiamo a vedere i cosiddetti biologici di prima generazione. Furono quelli prodotti per sostituire degli ormoni endogeni che prima venivano stratti dagli animali, ma che erano allergizzanti appunto perché provenivano da altre specie. Qui nuovamente è rappresentato l'ormone della crescita, l'insulina e l'eritropioitina e le loro relative funzioni. Ma se andiamo a studiare come i biologici aumentano la loro complessità, vediamo che ci sono delle strutture molto semplici, delle cosiddette catene amminocidiche, che sono le strutture primarie, codificate da una particolare sequenza di DNA che viene introdotta all'interno di particolari cellule eucariotiche, dopodiché questa struttura può assumere un atteggiamento particolare cosiddetto ad alfa-eleca, quindi una struttura in cui si vengono a creare dei legami idrogeni tra i vari amminoacidi. Questa struttura può diventare più complessa, ripiegata tridimensionalmente nello spazio e dare origine a molecole come l'eritropioitina, che è importante per le funzioni che ha a livello della produzione dei globuli rossi. E infine si possono venire a creare dei rapporti particolari tra le varie molecole con polipeptidiche, con complessità di interazioni, che è quella delle strutture quadernarie. E appunto tra le strutture quadernarie ecco che abbiamo i cosiddetti farmaci biologici di seconda generazione. Si tratta di anticorpi monoclonali, di proteine di fusione o di proteine particolari che interagiscono col complemento. Sono questi quei farmaci biologici che vengono impiegati molto nelle malattie infiammatorie o quelli che hanno certe volte un'attività antitumorale. La loro sintesi, la loro produzione all'interno delle cellule è talmente complessa che l'Agenzia Regolatoria Italiana, ma altrettanto le agenzie regolatorie europee e mondiali che permettono l'immissione dei farmaci in commercio, ci dicono che il prodotto è il processo di produzione tipico di ogni molecola. Di conseguenza un farmaco biologico è singolo, unico, possiamo dire ripetibile, mentre il farmaco biosimilare non è altro che un farmaco ottenuto mediante processi produttivi differenti che può avere delle similitudini, ma che sicuramente ha delle differenze di qualità, di sicurezza ed efficacia, qualità di sicurezza ed efficacia che devono essere valutate nel tempo. Quindi un farmaco biosimilare è un farmaco simile, e simile non vuol dire che è un farmaco uguale, è un farmaco che sicuramente ha delle caratteristiche simili a quello originator, ma che ha anche delle caratteristiche che devono essere ancora studiate nel tempo. Non è possibile dire che il farmaco biologico e biosimilare siano equivalenti, cosa che invece è possibile fare fra il farmaco chimico e il suo generico, perché questo lo vedremo fra poco. Innanzitutto il farmaco similare non è sovrapponibile al farmaco generico, perché per il farmaco generico bastano dei test di qualità e basta fare una bioequivalenza dal punto di vista della farmacocinetica. Per quanto riguarda invece i farmaci biosimilari, i test che devono essere fatti sono molteplici. Uno, test di qualità, poi naturalmente di bioequivalenza farmacocinetica, poi ci sono i cosiddetti dati di sicurezza e di efficacia col brand, col farmaco originario, originator di riferimento, che naturalmente non possono essere fatti in un breve periodo di tempo, perché ricordiamo che noi abbiamo a disposizione dei farmaci biologici che hanno ben 15 anni di vita e quindi una storia che nel tempo ci ha fatto scoprire pregi e difetti di questi farmaci. Quindi i biosimilari non possono essere considerati dei farmaci identici ai farmaci originator, a differenza di quello che esiste per i farmaci generici. E se noi andiamo ad analizzare i processi di produzione di questi farmaci biologici, vediamo che sono dei processi molto complessi. Inizia la clonazione del gene, dopo la trasfezione in particolare cellule, cellule deputate alla produzione che non avviene in una giornata, ma che avviene 3, 4, 7, 8 settimane, quindi un lungo periodo di tempo. Dopo che avviene questa produzione, in particolare i biosensori, in cui vengono strettamente controllate la pressione dell'ossigeno, la pressione dell'anidride carbonica, i nutrienti, anche la temperatura, perché a variare la temperatura varia anche la produzione, ecco che ci sono delle fasi di purificazione che portano alla molecola che poi è il farmaco che viene impiegato e che è il farmaco biologico. Naturalmente, siccome parte di questi processi fanno parte dei segreti industriali di un'industria, non possono essere copiati dagli altri, appunto perché hanno il segreto di ogni industria. Allora, qual è la cosa importante che dobbiamo tenere nella considerazione? Che il biosimilare, innanzitutto, non è un farmaco più identico, perché ci sono le variazioni di microeterogenità, soprattutto perché il sistema biologico utilizzato è differente, perché certe volte il peso molecolare della proteina è differente e questo è differente perché spesso viene nella formazione della nuova molecola dei processi chimici, che sono processi definiti di glicosilazione, mitilazione, ossidazione e diaminazione, molto compressi, che non possono essere facilmente riprodotti tra un farmaco biologico e il suo biosimilare. E allora, possiamo dire oggi che i farmaci biosimilari non sono equivalenti, non sono equivalenti perché ancora non abbiamo dei dati sufficienti, perché non conosciamo ancora l'efficacia, la sicurezza e anche non conosciamo bene gli effetti collaterali. Naturalmente, un farmaco biosimilare è prodotto con un processo che abbiamo detto è differente e quindi ha delle differenze dal farmaco originator. E per questo motivo le società scientifiche, ma anche le agenzie regolatorie, ci dicono che dobbiamo fare una farmacovigilanza attiva sulla sicurezza di questi farmaci. E questa sicurezza e farmacovigilanza attiva può anche condizionare la cosiddetta IC, che è l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, perché questi farmaci sono seguiti, dopo la loro autorizzazione, con studi post-autorizzativi di sicurezza, i cosiddetti studi PAS, e i studi PAS, i studi post-autorizzativi di efficacia, che appunto ci daranno informazioni sulla sicurezza di questi farmaci. Solo col passare degli anni potremmo sapere se avremo delle molecole che hanno, diciamo, delle caratteristiche farmacocinetiche e di maneggevolezza differenti rispetto agli originator che abbiamo a disposizione da oltre un decennio. Grazie a tutti per l'attenzione.